... della città, portando lo stile della pizza tradizionale napoletana. Pizzaiolo sin da ragazzino nella pizza c'è la sua vita e la sua terra. Esperienza, passione, creatività sono elementi che lo ispirano costantemente. Pizzaiolo pluripremiato e imprenditore attualmente sono tre le sue pizzerie a Salerno, unico e molto conosciuto, il suo brand, il Giardino degli Dei. L'Arcimoldo d'Oro premia Marco Di Pasquale, pizzaiolo di Salerno. Premia Bartolomei Pazdeschi, titolare del ristorante Il Tarì di Amalfi. Cinella e il microfono. Lo stai da noi, ho il canno che sei nascosto. Poi, chiamati per una volta, oh amico di casa, vieni qua, va, tutto sui sociali, tutto sui sociali. Ecco qua, poi chiamiamo la vostra azione, un apposto, e due, un microfono. Buonasera, volevo ringraziare questa splendida organizzazione, la signora Angela che testimonia di questa organizzazione. Volevo ringraziare il nostro collega Luciano Sorbillo, che ha dato anche lui una mano a fare sì che questa organizzazione fungisse da un grande evento. Questo premio lo voglio dedicare a mia moglie e a mia figlia e poi lo voglio dedicare a tutti i miei colleghi qua, presenti con me in sala. E voglio fare un grande, anzi, un grande saluto, che lo merita tutto, anzi, se per piacere mi fare una grande cortesia, ci alziamo in piedi per Don Antonio Assalita, perché è un grandissimo, un grandissimo uomo e un grandissimo pizzerone. Un po' più a fare, un po' più forte perché se ne merita tutti. Grazie. Grazie. A vedere là. Fonto? Il nostro paradigma. Vota la foto. Un attimo, c'è che vuota lì, vuota lì. Uno, due, fuori, c'è. Perfetto, grazie, grazie anche delle belle parole.